Il terzo set si poteva chiudere un po' prima, però oggi, l'avevo detto l'altra volta, che piano piano con il lavoro i risultati si vedevano. Stanno arrivando i primi risultati, siamo contenti, stiamo facendo un gran lavoro. Adesso ci godiamo questa seconda visore consecutiva e da martedì cominciamo a pensare a San Giustino.